Ok, allora adesso ci siamo Oggi come avete intuito dalle slide parliamo di React quindi il nostro primo incontro con React e quando andrete in laboratorio comincerete a lavorare su React mi ricordo non andate in laboratorio la prossima settimana questa settimana giovedì è già vacanza quindi non c'è laboratorio la prossima settimana però abbiamo scritto sul sito del corso ma manderò anche un reminder sul telegram che ci sarà lezione giovedì giovedì 13 aprile perché poi il 25 aprile ci mangia una lezione quindi ovviamente il 25 aprile non possiamo fare lezione sarebbe una lezione in aula e quindi sfruttiamo quel laboratorio quelle tre ore di laboratorio 8.30 11.30 per fare lezione ovviamente registrata come tutte come queste come quella che abbiamo fatto la prima settimana quindi non si perde nulla anzi ci viene anche bene perché così diciamo con questa introduzione a React abbiamo bisogno di un po' più di tre ore per mettervi in grado di lavorare in maniera un po' più interessante su React e non solo creare l'applicazione di base e fondamentalmente vedere che faccia quindi comunque manderò un reminder sul canale telegram del corso quindi avremo sostanzialmente tre blocchi di lezione consecutive poi il laboratorio sarà il 20 aprile quando sperabilmente anche tutti saranno tornati dalle vacanze di Pasqua ok quindi fatta questa premessa cominciamo a parlare di React quindi vabbè questa immaginina che sono scelta dai miei colleghi dei corsi in inglese che sono molto più come dire hanno più senso dell'umorismo del sottoscritto forse anche più capacità di andare a cercare queste cose ci dice sostanzialmente che da questo momento in poi sostanzialmente noi abbiamo visto come funziona JavaScript abbiamo visto come funziona JavaScript nel browser ma ci appoggiamo ad una cosa diversa che usa quelle funzionalità ma noi non le usiamo più direttamente ok quindi noi questo e vedremo questa mattina quindi cerchiamo di imparare questa che di fatto è una libreria tecnicamente è una libreria non è un framework diciamo una parola molto generica vuol dire tutto vuol dire nulla è come dire un setup mentale un framework diciamo così o un insieme di librerie se volete metterla in maniera un po' più terra a terra però noi vediamo questa libreria che ci aiuterà a sviluppare bene applicazioni web senza doverci occupare troppo di tutti i dettagli tecnici implementativi a partire dalle incompatibilità che esistono tra i vari browser fino a dover scrivere manualmente e chiamare manualmente tutti i vari metodi del JavaScript nel browser come avete fatto in laboratorio per andare a creare nodi elementi HTML testo eccetera e quindi creare la pagina da codice quindi ci darà una forte mano perché? perché uniformizza tutto rende tutto diciamo il più uniforme e lasciatemi dire logico possibile per poter sviluppare facilmente applicazioni web con il paradigma che abbiamo visto finora quindi con quello paradigma della single page application quindi noi carichiamo la pagina dal server web la prima volta la pagina vedremo sarà vuota nel senso che ha lo scheletro minimo per iniziare c'è un body c'è un elemento dove mettere il contenuto e tutto il resto viene gestito dal codice codice JavaScript appoggiato a React che noi scriveremo per far funzionare l'applicazione sarà così da adesso fino alla fine del corso ok? noi oggi impariamo le basi quindi sviluppiamo la prima applicazione React più semplice possibile mano a mano aggiungeremo funzionalità eventualmente avvalendoci anche di librerie esterne quando necessarie ce ne saranno un paio per gestire il cosiddetto routing e per gestire l'autenticazione che useremo e perché non ci mettiamo a reimplementare queste funzionalità che sono diciamo ben ben come dire stabilizzate diciamo così in librerie che sono utilissime per sviluppare applicazioni web per funzionalità che praticamente tutte le applicazioni web che sono leggermente più complicate del esempio che vedremo adesso devono avere ok quindi con React saremo in grado di creare dei componenti di più alto livello dei semplici tag HTML finora avevamo visto solo tag HTML vogliamo la tabella c'è il table vogliamo una lista però c'è l'inizio lista i vari elementi della lista e così via e questi dobbiamo scriverceli noi ma non abbiamo un elemento lista a cui diamo che so un vettore di string creami la lista cose di questo tipo non ci sono se le volessimo dovremmo scriverceli noi nel nostro codice dalla scorsa esercitazione avete tutti gli elementi per farlo ma chiaramente dovreste svilupparvi un insieme di funzioni di librerie vostre per fare questo se c'è qualcosa di più organizzato di più ben pensato in quest'ottica sarebbe meglio e React è pensato proprio in questo senso c'è anche una gestione molto più raffinata degli eventi rispetto a quella che abbiamo visto diciamo la scorsa volta sotto tutto userà le funzioni le funzionalità che abbiamo visto la scorsa volta ma diciamo avremo una maniera un po' più semplice di interagirci che alla fine è lo scopo di una qualsiasi libreria fornirci delle funzionalità di più alto livello più astratte con le quali possiamo interagire in maniera semplice dovremo adeguarci ai pattern di programmazione cioè il modo di programmare che richiede la libreria ogni libreria ha il suo modo React ha il suo e adesso lo descriveremo altre librerie diciamo abbastanza diffuse hanno il loro modo quindi noi da questo punto in poi diciamo dobbiamo un po' adeguare il modo con il quale scriviamo le nostre applicazioni alla filosofia React ma questo vale per qualsiasi framework però io mano a mano che andiamo avanti nelle lezioni vi evidenzierò tutti gli aspetti che sono comuni allo sviluppo delle applicazioni web di tipo single page application qualsiasi e sia il framework la libreria che usate avrete dei problemi comuni la gestione dello stato dell'applicazione la gestione delle route quindi degli url diciamo così e tutti questi aspetti che sono comuni in tutti i framework perché sono propri dell'applicazione web ok chiaramente React ha una certa maniera di risolverli altri librerie avranno un'altra maniera di risolverli quindi noi per prima cosa ci concentriamo sui concetti e poi però per poter sviluppare qualcosa avere qualcosa da provare dovremmo calarci nell'implementazione pratica suggerita da React ok è un framework molto diffuso per cui ci sono tanti plugin estensioni e librerie e appunto come vi dicevo ne useremo un paio per il routing e l'autenticazione che diciamo sono disponibili per React anche il motivo per cui l'abbiamo scelto perché crediamo che abbia diciamo è ben sviluppato viene costantemente mantenuto e crediamo che abbia un certo futuro sebbene il futuro in un momento informatico sia molto difficile da prevedere però diciamo che nei prossimi anni non ci aspettiamo che sparisca del tutto ecco ma noi vogliamo imparare tramite questo framework i concetti alla base dello sviluppo di un'applicazione web moderna cioè di tipo single page application perché se imparate i concetti chiaramente poi vi potete adattare a qualsiasi framework si tratta di mettersi lì a capire come ogni framework vuole che siano gestiti implementati e così via c'è una documentazione per React che hanno aggiornato proprio quest'anno rifatta anche molto meglio diciamo di quanto era disponibile fino all'anno scorso su react.dev trovate tutto il necessario è uscita dalla versione beta da poco ci fanno sempre questa sorpresa ma che è una piacevole sorpresa perché abbiamo il corso al secondo semestre quindi non ce lo cambiano a metà ma di solito arriva prima che noi arriviamo a parlare di React poco prima e quindi diciamo che una volta all'anno cercano di aggiornare un po' tutto quanto vi dicevo all'inizio del corso ci sono anche degli strumenti di sviluppo specifici per React esistono delle estensioni una per Chrome una per Files che forse anche per qualche altro browser che ci consentiranno di esplorare aspetti specifici delle applicazioni React caricate nel browser in modalità sviluppo è come faremo noi noi useremo sempre la modalità sviluppo perché ci interessa poter vedere cosa succede debuggare e così via poi è chiaro che React è un framework che diciamo può essere usato per scrivere applicazioni complesse che poi effettivamente vengano messe in produzione vengano usate effettivamente anche su larga scala quindi avrà delle funzionalità che noi non vedremo per diciamo prendere l'applicazione ridurla al minimo per non consumare troppa banda togliere tutto ciò che non è necessario e effettivamente renderla disponibile in modalità non più sviluppo ma produzione un build se ne fa un build per poterlo effettivamente mettere su un server reale ma noi questa parte non la vediamo c'è tutto nella documentazione se un giorno qualcuno volesse diciamo sperimentare ok quindi prima cosa due parole sui principi che hanno guidato la realizzazione di React React è un framework che è stato sviluppato inizialmente dagli ingegneri di Facebook e non proprio gli ultimi non so se i primi punti di vista però insomma comunque qualcuno che aveva necessità di sviluppare applicazioni web di una certa complessità quindi diciamo tutti questi principi sono stati ben pensati e ben organizzati e noi cercheremo di seguirli il più possibile prima di tutto React ha un approccio di tipo dichiarativo nel senso che noi non andremo mai a toccare esplicitamente il DOM come invece avete fatto la scorsa settimana abbiamo io in aula ho fatto e voi in laboratorio avete fatto ma perché l'abbiamo fatto perché se non vi facevamo toccare almeno una volta con mano cioè col vostro editor e browser il DOM diciamo ci sfuggiva un po' questo aspetto cioè la scorsa settimana avete capito che con il DOM toccando il DOM possiamo manipolare il contenuto e l'aspetto della pagina create element append child messettate linear html e così via facendo attenzione a non fare troppa confusione con questi metodi però c'è questo albero del DOM che potete andare a manipolare da codice sotto React farà esattamente questo solo che noi non andremo mai a farlo esplicitamente cioè il nostro codice non manipolerà mai il DOM il nostro codice come dice qui dichiarerà che cosa vorremmo che succedesse all'interno del DOM ci penserà React a farlo succedere quindi noi definiremo sempre e solo come ogni elemento di base di React che si chiama componente verrà visualizzato questo componente descrive una tabella quindi io voglio che venga fuori una tabella con queste righe questi contenuti all'interno delle celle eccetera noi scriviamo di fatto vedremo delle funzioni javascript che dicono che cosa vogliamo all'interno del nostro componente e React si preoccuperà di andare ad aggiornare il DOM vero quello del browser per far comparire quello che noi dichiariamo di volere React usa un approccio di tipo funzionale che vuol dire che fondamentalmente noi per scrivere i componenti scriviamo delle funzioni il valore di ritorno di queste funzioni sarà ciò che viene visualizzato ovviamente questa è una descrizione molto generica e tra poco la caliamo in qualcosa di molto più pratico ok quindi nel momento in cui scriviamo un componente React avremo una funzione che ritorna un pezzettino della nostra interfaccia utente UI sta per user interface quindi dicevamo prima la tabella l'header la barra di navigazione un bottone qualsiasi cosa che noi decidiamo di scrivere sotto forma di componente e lo farà sulla base di due parametri uno stato e delle proprietà che noi passiamo a questo componente in particolare molti componenti non avranno neanche necessità di manipolare uno stato quindi di fatto avranno un risultato di visualizzazione quindi questo frammento di interfaccia utente che dipende sempre e solo dalle proprietà che noi andiamo a passare cosa passiamo come proprietà delle caratteristiche per rendere personalizzabile questo componente che so il bottone facciamo un nostro bottone e dentro questo bottone vogliamo scriverci qualcosa una proprietà potrebbe esserci essere che cosa scriviamo dentro questo bottone ok così che abbiamo un elemento bottone nostro che si comporta come noi riteniamo che debba comportarsi il nostro bottone però possiamo personalizzare che cosa c'è scritto dentro se no dovremmo scrivere un componente per ogni bottone con una nuova scritta quindi un po' l'idea generica delle funzioni in un linguaggio di programmazione svolgono un certo compito passiamo dei parametri e tirano fuori un risultato qui il risultato è un pezzettino dell'interfaccia utente della nostra applicazione ok il fatto che passiamo solo delle proprietà rende queste funzioni idempotenti e immutabili cosa vuol dire vuol dire che tutte le volte che le chiamiamo con gli stessi valori delle proprietà daranno lo stesso risultato cioè non ci sono effetti collaterali non ci sono informazioni mantenute separatamente come potrebbe essere lo stato che infatti tratteremo un po' più avanti in realtà che non oggi se non diciamo in qualche esempio così giusto per fare una cosa un po' più carina ok prima di andare avanti troveremo sempre scritto props per props intendiamo properties è un po' un gergo di react tanto codice anche noi scriveremo sempre props come nome della variabile che contiene le proprietà che alla fine sarà un oggetto e con questo intendiamo le proprietà del nostro componente ok ok quindi react si basa sull'idea che cerchiamo di scrivere il più possibile componenti sotto forma di funzioni che ricevono delle proprietà e a fronte del fatto che ricevono le stesse proprietà ritornano lo stesso pezzettino di user interface quindi di interfaccia utente quindi lo stesso pezzettino diciamo così di html lo stesso pezzettino di alberello del DOM da inserire nell'albero complessivo visualizzato dal browser per rendere efficiente questo approccio è necessario che quando creiamo i componenti questi componenti abbiano la proprietà che dicevamo prima idempotenti immutabile cioè una volta che abbiamo scritto il componente che è una funzione questa funzione non la tocchiamo più ma questo è abbastanza semplice perché scriviamo del codice il codice è quello non si tocca più e la cosa invece interessante è l'idempotente cioè tutte le volte che passiamo le stesse proprietà al nostro componente deve venire fuori la stessa user interface stessa identica quindi stesso html stesso testo eccetera perché? perché così React sarà in grado di ottimizzare diciamo la gestione del DOM perché sa che se non sono cambiate le proprietà di ingresso di input del nostro componente quindi della nostra funzione che abbiamo scritto non c'è bisogno di chiamare di nuovo quella funzione ok? nella nostra applicazione succederà che ogni tanto diciamo l'utente interagisce arrivano dei dati dalla rete e così via ci saranno delle variazioni nelle proprietà e negli stati usati dai nostri componenti React si prenderà carico di capire per quali componenti sono cambiati i valori delle proprietà e degli stati e andrà a chiamare le funzioni di quei componenti che sono cambiati rendendo quindi tutto il sistema molto efficiente ok? ok quindi questo è un po' il discorso ogni volta che cambia qualcosa React va a rilanciare rieseguire le funzioni relative ai componenti per cui qualcosa è cambiato stati o proprietà il componente una volta che cambia la proprietà o lo stato associato a quel componente potrà decidere di ritornare qualcosa anche di completamente diverso c'è un nuovo pezzetto di user interface per esempio se noi avessimo fatto il nostro bottone componente bottone nostro che a seconda delle proprietà decide se visualizzare il bottone oppure visualizzare nulla perché qualcuno l'ha premuto noi possiamo ritornare o il bottone o nulla a seconda delle proprietà dello stato che viene passato al nostro componente si preoccuperà react di prendere questo pezzettino di user interface metterlo insieme a tutti gli altri pezzettini e ricomporre la visualizzazione all'interno della nostra pagina del browser ok quindi ogni volta che c'è una variazione di stato di proprietà react si preoccupa di aggiornare la visualizzazione sulla base di qual è il risultato di ogni funzione che implementa componenti che sono correntemente presenti all'interno della nostra applicazione chiaramente detto così può sembrare un po' impegnativo perché ogni volta che succede qualcosa e tutti i momenti succede qualcosa un qualsiasi clic un qualsiasi operazione arrivano dei dati dalla rete eccetera richiede di far un aggiornamento dell'interfaccia se l'applicazione è grande l'albero del DOM è grande e potrebbe essere necessario fare tante variazioni al nostro albero del DOM quindi per ovviare al problema delle performance che detto così in termini molto generali potrebbe essere critico react implementa un virtual DOM cioè noi non andiamo come detto all'inizio mai a toccare il DOM reale del browser fino alla scorsa settimana l'avete fatto da oggi in poi quando avete react ovviamente non dovete più toccare il DOM reale cioè non si potrà più fare append child piuttosto che cos'era insert adjacent html oppure mettere inner html uguale eccetera queste cose qua non si potranno più fare chi le fa sbaglia non segue la filosofia react fa una cosa al di fuori di quello che è previsto dalla libreria e oltre al fatto che probabilmente le cose non funzionano più o se funzionano sono più affidabili non è possibile lavorare in questa maniera né adesso con react né per l'esame perché? perché react prevede che il DOM lo gestisce esclusivamente la libreria react punto basta ok e come fa? siccome noi siamo abituati a ragionare in termini di DOM perché DOM vuol dire l'albero html e noi siamo abituati a pensare la pagina in termini di struttura html ci mette a disposizione qualcosa su cui effettivamente lavorare simile al DOM che si chiama virtual DOM cioè è una struttura di react parallela a quella del DOM reale del browser ma che è stata ottimizzata per funzionare con react quindi molto veloce da aggiornare sistema nel frattempo alcune anomalie del DOM e anche incompatibilità o differenze tra vari browser e così via sapete che l'html è nato più di 30 anni fa diciamo per esempio nei form e in certi altri elementi html il comportamento non è sempre uniforme per esempio la gestione degli eventi eccetera può avere piccole difformità tra seconda che tag stiamo usando queste cose vengono tutte sistemate nel virtual DOM perché ovviamente è uno strato di virtualizzazione che può andare poi a mappare in autonomia le operazioni che facciamo in maniera uniforme su quello che effettivamente è il DOM del browser nel quale sta usando nel quale sta girando come funziona il meccanismo per essere così efficiente funziona che solamente le modifiche le differenze una volta che noi abbiamo aggiornato il virtual DOM vengono effettivamente portate nel DOM reale quello del browser ok quindi noi lavoriamo sempre su questo virtual DOM che cos'è? è una struttura dati nella memoria di javascript gestita dalla libreria React con la quale noi possiamo interagire e React quando noi facciamo un aggiornamento un cambiamento di questo virtual DOM si incarica di andarlo a riflettere nel DOM reale del browser senza che noi dobbiamo fare nulla per fare l'operazione in maniera efficiente deve sapere che cos'è cambiato nel virtual DOM quindi in sostanza si tiene in qualche maniera che a noi non interessa una copia del virtual DOM precedente è in grado di fare diciamo così le differenze una volta che noi abbiamo cambiato una proprietà o uno stato va a ricalcolare i pezzetti di user interface che sono cambiati e va poi ad aggiornarceli nel DOM reale tutto questo per noi è trasparente ok e l'aggiornamento avviene in maniera batch diciamo così nella maniera più efficiente possibile in maniera asincrona e a noi non diciamo non cambia dove scriviamo il codice in React la situazione migliore possibile noi decidiamo che qualcosa è cambiato aggiorniamo il virtual DOM e poi questa cosa verrà riflessa all'interno della visualizzazione effettiva nella finestra del browser automaticamente da parte di React se voi siete curiosi di sapere come fa internamente eccetera ci sono i link nelle slide andate a curiosare però chiaramente una libreria abbastanza grossa per fare tutto in maniera efficiente eccetera hanno dovuto scrivere una certa quantità di codice non sono proprio due righe quindi lo lasciamo così come approfondimento ma per noi in realtà non è neanche necessario chi è curioso può andare appunto a curiosare anche per quanto riguarda gli eventi questi sono gestiti in maniera diciamo virtuale diciamo oppure da React React a questi eventi sintetici che non corrispondono agli eventi del virtual DOM ma saranno mappati sempre anch'essi sul DOM reale dalla libreria React così ci sganciamo completamente dal DOM perché se no come abbiamo fatto la scorsa settimana se avessimo noi da mettere questo ad event list se non abbiamo l'elemento del DOM su cosa lo chiamiamo e invece gli elementi del virtual DOM hanno l'equivalente dell'add event listener a cui possiamo agganciare degli eventi sintetici che sono poi gli eventi reali che capitano sul DOM che React ci riporta il click il caricamento piuttosto che il cambio di un contenuto di una casella di testo di un form e così via noi possiamo agganciare tutti questi eventi e scrivere il nostro codice React si incarica di far funzionare tutto il meccanismo interfacciandosi con il DOM reale e già che c'è di nuovo normalizza gli eventi nel senso che anche qui a seconda dei browser a seconda degli elementi html ogni tanto questi eventi non vengono gestiti nella maniera diciamo più coerente possibile per esempio il change a seconda degli elementi del form nel DOM reale funziona o non funziona funziona in maniera un po' diversa a seconda del tipo di elemento React ce li fa funzionare tutti in maniera uniforme così il nostro codice è molto più semplice da scrivere non dobbiamo pensare che c'è la casella di testo piuttosto che la casella grande di testo la texteria piuttosto che un bottone piuttosto che è tutto molto coerente e se c'è la possibilità di cambiare c'è l'evento un change se qualcosa è cambiato ci viene richiamato non come nel DOM che magari c'è per un certo elemento ci viene chiamato nell'altro bisogna agganciare un evento diverso oppure scriversi un handle per il click e farcelo noi e così via è stato tutto sistemato ok come si fa a inserire React nella nostra applicazione dobbiamo avere un punto in cui agganciare la nostra applicazione e questa cosa la facciamo con l'unica volta che usiamo il DOM in realtà sarà già pronta per noi document get element by id metteremo un tag div nella nostra applicazione a livello massimo diciamo sotto il body con id uguale root per convenzione id qualsiasi cosa noi agganciamo questo evento e lì renderizziamo tutta la nostra applicazione con le funzioni React ma in realtà vedremo tra poco che c'è uno scheletro di applicazione che ci viene fornito che già consente diciamo di iniziare a scrivere il nostro codice e tutto questo è già stato reso pronto per scrivere il nostro codice quindi è già stato fatto per noi lo andremo a curiosare ma in tutte le applicazioni partiremo con questo codice già fatto e scritto ok ecco una cosa che vedremo tra poco quando proviamo appunto l'esempio è che noi per fortuna non avremo da scrivere tutto sotto forma di funzioni javascript fornite da React perché se no torneremo un po' a quello che facciamo la settimana scorsa c'è il virtual DOM ma non il DOM ma se ci dai di nuovo il create element append child eccetera cambiamo solo che interagiamo con una struttura di memoria piuttosto che il virtual DOM piuttosto che il DOM reale scusate invece noi per fortuna senza questo probabilmente sarebbe un po' come dire di scarsa utilità per fortuna possiamo usare una sintassi simile all'html in cui scriviamo il codice html come abbiamo fatto fino appunto alla settimana scorsa e questo codice e questo codice html verrà convertito automaticamente in codice react quindi vari create element di un tipo di un altro quindi di un certo tag un altro tag eccetera automaticamente per noi da un traduttore automatico questo formato nel quale scriveremo il codice html si chiama jsx javascript x sta per extended qualcosa di simile quindi noi qui dentro nelle funzioni react potremo passare direttamente del codice html che in realtà non è il codice javascript lo sapete il codice javascript è quello che abbiamo visto fino all'altra settimana ma verrà tradotto per noi in codice javascript qui lo vediamo lo vediamo una sola volta ma non diciamo non ci interessa perché noi questa parte a destra sostanzialmente non la vedremo mai vedremo gli errori che vengono fuori quando da questo codice da questa sintassi jsx non sarà non saranno ben sistemati i vari tag se noi lasciamo un tag aperto non si sa più come tradurli e allora ci viene fuori un errore e jsx ci dirà guarda non riesco a tradurre questo vai a verificare e così via ma noi il codice qui a destra non lo vedremo mai lo potremmo utilizzare ma se utilizzassimo il codice qui a destra diventerebbe molto più complicato scrivere l'applicazione e perdiamo i vantaggi di usare una libreria che è la semplificazione ok noi potremo usare i tag html ma potremo usare qui come tag anche dei tag diciamo così virtuali che creiamo noi che sono i componenti che noi definiamo all'interno di React il famoso bottone che vi dicevo prima che tra poco andremo a provare nell'esempio il bottone creato da noi lo possiamo usare come un tag html come gli altri ok quel bottone formerà un pezzo dell'interfaccia utente quindi verrà creato renderizzato si dice sotto forma di una serie di tag html elementari che effettivamente poi possono essere tradotti in un dom reale nel dom reale non c'è il nostro bottone c'è o button oppure c'è input type uguale button quindi quando React deve andare a tradurre dovremmo dare una regola per dire che cosa effettivamente vogliamo che appaia nel dom reale ok mi rendo conto che il discorso è un po' generale un po' generico in questo momento ma tra poco vediamo un esempio e ci chiariamo le idee tutto sulla pagina di React è un componente anche i tag singoli tag html hanno il loro corrispondente nel componente React solo che siccome sono tag html tradizionali sono già stati creati e inseriti nella libreria React i nostri componenti invece ovviamente li definiamo noi e dobbiamo ancora crearli ma tutti gli altri tag html tradizionali diva h1 p form input button header main tutti quelli che abbiamo visto finora table eccetera hanno il loro corrispondente componente React che si scrive per semplicità nella stessa identica maniera ed è come qui l'abbiamo scritto ok ovviamente tutti possono essere annidati avete visto il DOM è una struttura ad albero quindi vuol dire che nella radice è annidato una serie di elementi figli i quali annidano altri elementi fino ad arrivare alle foglie ma questo l'abbiamo imparato quando abbiamo creato la nostra pagina html per definire i nostri componenti di fatto scriviamo semplicemente una funzione una funzione che può ricevere alcune proprietà di solito la scriviamo appunto in questa forma props perché ci dà un oggetto che contiene tutte le proprietà che diciamo ci vengono passate o dalla libreria cioè tutti gli attributi del tag oppure le proprietà che decidiamo noi di passare perché il componente lo scriviamo noi e quindi siamo noi che decidiamo che cosa riceve il componente che scriviamo e cosa deve fare questa funzione nella sua versione più semplice deve fare una sola cosa return il frammento di interfaccia utente che deve essere renderizzato come sotto forma di codice JSX quindi diciamo per noi sotto forma di codice HTML potremmo dire quindi come in questo caso div p eventualmente con del contenuto dinamico se noi apriamo una graffa e possiamo scrivere dentro questa graffa un'espressione javascript qualsiasi e questa verrà valutata e convertita nel momento in cui viene fatto il return possiamo anche mettere altri nostri componenti custom cioè definiti da noi ok diciamo i tipi di componenti li lascerei per più avanti sono comunque sempre funzioni so che chiaramente i componenti che gestiranno dello stato saranno più complicati perché avranno necessità appunto di gestire questo stato mentre invece i componenti tipo presentazione come quello di prima semplicemente ricevono delle proprietà e sulla base di quelle proprietà decidono che cosa appare quindi io qui ho deciso che il mio componente riceve una proprietà content che viene presa utilizzata ed è ciò che viene scritto nel paragrafo dell'interfaccia utente che viene sostituita a questo componente quindi div b col mio contenuto ok questo lo lascerei diciamo due parole quindi diciamo che noi partiamo dalla radice come nell'albero del DOM React ha la sua radice che è quella che ci viene preparata dallo script che vediamo tra poco che ci prepara lo scheleto della nostra applicazione la quale comincia a passare delle proprietà a tutti i componenti figli della nostra applicazione quando si arriva al termine arriviamo alle foglie del nostro albero del DOM diciamo non abbiamo più nulla da passare ovviamente verso il basso ad altri figli come proprietà possiamo passare qualsiasi cosa prima prima abbiamo visto l'esempio diciamo di una stringa che è la cosa più semplice ma possiamo passare tutti i valori javascript quindi numeri boolean nulla undefined ma non ci servono di solito e riferimenti ad array ad altri oggetti addirittura possiamo anche passare dei riferimenti a delle funzioni è sempre javascript quindi tutto ciò è sempre valido quindi passeremo dei riferimenti a delle funzioni che saranno delle callback che eventualmente il componente potrebbe aver bisogno di andare a richiamare nel momento in cui succedono degli eventi per esempio un nostro bottone potremmo avere la necessità di passare a una funzione che reagisca all'evento click e vada ad agire in qualche maniera su qualche altra parte della nostra applicazione react quindi abbiamo questo flusso di dati top to bottom quindi dall'alto in basso che propaga le proprietà secondo l'annidamento dell'albero del DOM a tutti i componenti coinvolti ok lo stato invece locale ai componenti ma diciamo ne parliamo diffusamente perché lo stato è da affrontare in una lezione a parte perché è uno degli aspetti fondamentali per creare un'applicazione web quindi un'applicazione web funziona secondo questo ciclo viene creata una vista all'inizio react ci crea la vista quindi la prima visualizzazione quando noi apriamo la pagina viene caricata una visualizzazione poi nella vista succede qualcosa tipicamente l'utente interagisce clicca modifica fa qualcosa quindi si scatenano delle azioni collegate degli eventi che aggiornano lo stato dell'applicazione il quale stato in certi componenti andrà a cambiare il contenuto sotto forma di props o sotto forma di altri valori che vediamo più avanti e il ciclo si ripete si react si incarica sostanzialmente di aggiornare la visualizzazione quindi diciamo noi ci incarichiamo di scrivere cioè di agganciare gli eventi che ci interessano e di scrivere il codice relativo alle azioni questo lo possiamo fare solo noi perché è ciò che vogliamo che faccia l'applicazione questo codice andrà a modificare dei valori che se vogliamo che siano persistenti andranno a finire in uno stato dell'applicazione e da qui in poi ci pensa react ad aggiornare la vista cioè a ridisegnare la parte dell'interfaccia che deve essere aggiornata questa è la parte più difficile ed è la parte per la quale abbiamo bisogno della libreria è qui che viene il difficile perché è quello che dovete fare col vostro codice javascript quindi prendere gli elementi distruggerli crearne di nuovi fare l'appende nel punto giusto del DOM e così via per fare in modo che la visualizzazione venga aggiornata e quello che nella scorsa nello scorso laboratorio avete provato a fare a mano vi siete resi conto di quanto è difficile addirittura senza gestire eventi perché non gestivamo eventi gestivamo solo il caricamento la creazione di una serie di elementi a partire da un array dei film ci faceva creare i vari elementi da inserire nel DOM per creare la visualizzazione della tabella o lista a seconda di come avete voluto implementarla avete visto quanto è difficile è facile sbagliarsi è complicato e dobbiamo scrivere tanto codice e così via quindi questa è la parte che React cerca di semplificarci ok come come dicevamo prima con la possibilità di scrivere del JSX quindi di scrivere le cose prima di tutto in una forma semplice che è quella diciamo così del codice HTML ma dandoci la possibilità di creare tag HTML più sofisticati che sono i componenti che hanno un certo comportamento che noi possiamo facilmente riutilizzare nella nostra applicazione in altre parti o in altre applicazioni ok è l'idea della programmazione scrive delle funzionalità delle librerie in questo caso delle funzioni che possono facilmente essere riutilizzate per semplificarci la programmazione ok questo dello Stato lo lascerei da parte perché appunto sarà dedicata una lezione anzi probabilmente più di una lezione alla gestione dello Stato perché è assolutamente fondamentale quello che dovete fare per far funzionare l'applicazione però noi all'inizio diciamo vi guido io oggi nella gestione dello Stato per fare una cosa leggermente più carina del semplice modifico il codice e vedo che cosa succede quindi per avere un tantino di interattività con l'utente ma per il resto diciamo vedremo poi per bene come andare ad impostare questo aspetto perché c'è molto da dire quindi come facciamo a usare React allora dobbiamo scaricare diciamo così la libreria React vogliamo usare il JSX quindi abbiamo bisogno di un traduttore che trasformi il JSX quindi quello codice pseudo HTML in codice JavaScript e poi vogliamo essere in grado di far funzionare il tutto in un browser quindi abbiamo bisogno di un server web perché se non carichiamo i vari pezzi di codice da un server web il browser comincia a protestare per una questione diciamo che vediamo poi più avanti e poi vogliamo anche già che ci siamo andare a sistemare tutta una serie di problemi cioè quelle piccole incompatibilità che esistono tra i vari browser quindi caricando eventualmente le librerie che ci consentono di avere una visione uniforme per la nostra applicazione indipendentemente dal browser e poi va bene ok anche diciamo avere un ciclo di sviluppo un po' più facile e rapido quindi quando salviamo un file che venga aggiornato tutto eccetera ma questo diciamo è il minore dei problemi come facciamo queste sono le istruzioni da seguire quest'anno abbiamo deciso di usare vite vite non so bene come si dica in inglese penso vite che è diciamo un pacchettino npm quindi come quelli che abbiamo già visto che è dedicato a creare lo scheletro di una generica applicazione react ok l'anno scorso usavamo un create react app che è molto più pesante un po' meno efficiente eccetera ogni anno c'è qualcosa di nuovo che come dire viene fuori ed è potenzialmente più utile perché questi framework comunque sono tutti in sviluppo lo sapete quindi diciamo noi cerchiamo di adeguarci e ogni tanto ci sono effettivamente delle novità che ci semplificano un pochino allora andiamo a fare la prova facciamo una prova e creiamo una prima applicazione react allora io mi metto in wiki 06 quindi nella cartella dove poi sul git vi faccio il push di tutto quanto questi esempi li lasciamo lì che mi servono per copiare e incollare il codice dopo quindi io sono in soluzioni no sono in soluzioni no scusa non soluzioni sono in wiki 06 quindi in wiki 06 apro il mio terminale adesso con la dovuta calma si apro wiki 06 e do i comandi quindi npm create write at latest e qui devo dare il nome della mia applicazione facciamo my button tanto per provare o serve quel facciamo no facciamo pure my app va bene dai allora npm create write at latest devo avere la connessione a internet perché scarica il pacchettino my app ok quindi adesso ho la connessione a internet e qui è sempre un pochino lenta in aula forse perché siamo in tanti forse perché mi demotivi ok ho necessità di installare questo pacchetto il create write noi diciamo si ve lo chiederà solo la prima volta perché poi se lo ricorta se lo mette da parte sul sistema ma a noi va bene va bene l'ultima versione non ci sono problemi quindi diamo invio yes se lo scarica e poi le slide ci dicono scegli react poi scegli javascript più svc quindi noi scegliamo con la freccina react è un pacchetto generico quindi può creare tanti tipi di progetti scegliamo react e poi prendiamo javascript più svc che sarebbe questo traduttore dal jsx al codice javascript ok quindi questo è fisso facciamo sempre così ok fatto adesso però non abbiamo finito c'è scritto devi entrare in myapp e fare l'operazione più pesante che è l'npm install perché in myapp adesso mi ha creato un progetto con il package json che ha una serie di dipendenze tra cui react e react dom diciamo che è una libreria di servizio di react e quindi queste cose vanno scaricate quando avete un package json cosa fate fate npm install esattamente come ci suggerisce e l'npm che è un programmino dell'ambiente node che ci ricostruisce tutto diciamo ci scarica e ci sistema tutte le librerie descritte nel progetto nel package json va a metterci a posto l'ambiente per consentirci di usarle scarica un po' di roba come scritto sulle slide ha scaricato 60 e qualche megabyte di dati quindi fatelo se avete una buona connessione se no potete aspettare e io questo che finisce tutto questo come sapete finisce nel node modules come quando installavamo dayjs installavamo sqli3 finisce tutto lì dentro con tutte le dipendenze di ogni libreria e noi non mettiamo mai a disposizione il node modules perché perché si può ricreare semplicemente con npm instar quello da mettere a disposizione è il package json ok ok e poi proviamo proviamo l'applicazione di esempio fornita dato uno scheletro già funzionante di un'applicazione molto semplice quindi la lanciamo così npm run dev quindi npm run dev ok non succede nulla ma ci dice che c'è un web server in ascolto sul link http localhost 5173 porta 5173 schiaccio h giusto per farvi vedere l'help che ci dice o opening browser q esci quindi termina r rilancia il server e così via quindi o andiamo nel browser e scriviamo http localhost 5173 e questo lo possiamo fare viene fuori la nostra applicazione oppure siccome dicevamo prima un ambiente che ci vuole aiutare anche a sviluppare se premo o mi apre il browser di sistema caricando l'url di default che è questo qui ok questa è l'applicazione base che ci ha creato questo script ha messo dentro due o tre tag e ci ha creato le due immaginine e ci ha creato qualcosa in cui noi possiamo cominciare a lavorare a scrivere codice e così via tra l'altro c'è già un qualcosa di carino perché c'è già un bottone che se premiamo si aggiorna e quindi diciamo così ha già messo un pezzettino di react un pochino interessante ma questo lo potete usare giusto per vedere che tutto funzioni e possiamo forse aprire il development what developer tools ah no scusate questo non c'entra quello a destra mi sembra no eccolo qua no questo non c'entra no volevo farvi vedere una cosa ma non funziona però un intervallo scusate non l'avevo provata prima questi non hanno niente questi linkano ai siti di react di byte andiamo a vedere come è fatta l'applicazione quindi se noi andiamo a vedere cosa è stato creato è stato creato un albero di file così il node modus con tutte le librerie ma noi non lo tocchiamo mai lo tocca solo l'npm install quindi node modus non lo tocchiamo il package json che contiene tutte le dipendenze quando noi installiamo un nuovo pacchetto viene scritto dentro il package json e se lo ricorda quindi se noi come tra poco nell'esempio dopo avremo bisogno della dayjs quindi la libreria per le date facciamo npm install finisce il package json e ci si ricorda che nel progetto c'è bisogno del dayjs quindi quando rifarete l'npm install viene riscaricato e poi diciamo una serie di file di servizio le immaginine tutto quello che volete però a noi interessano questi tre in grassetto quindi index.html che è la pagina che viene servita dal server web all'inizio che andrà a montare no a caricare il main jsx che contiene un frammento di codice che carica react e dice di andare a prendere il codice della nostra applicazione in app .jsx si chiamano .jsx e non .js perché? perché contengono il codice javascript ma possono contenere anche del codice jsx che quindi deve essere soggetto all'operazione di traduzione in codice javascript tutto ciò avviene automaticamente per noi noi non dobbiamo fare nulla questo pacchetto ha già predisposto tutto in maniera che noi scriviamo dentro questi file .jsx e la traduzione avverrà automaticamente quando andiamo a salvare il file fondamentalmente se ci sono degli errori verranno fuori poi nella console del browser andremo a vedere cosa c'è che non va non abbiamo chiuso un tag abbiamo fatto dei pasticci col codice come capita sempre e andremo a correggere andiamo a vedere i file allora effettivamente quindi apriamoli solo una volta poi dopo questa volta non li apriremo più perché noi andremo a toccare solo app jsx però almeno sapere cosa c'è dentro questo è quello che c'è dentro nel index html come vedete non c'è la nostra applicazione c'è un div id uguale root ok e poi uno script che carica il main.jsx quello che dicevamo prima cosa fa main.jsx fa quello che abbiamo intravisto prima cioè crea un elemento di react lo attacca alla posizione root nel codice html quindi quello che noi abbiamo definito id uguale root e fa render di che cosa del componente app strict mode lo lasciamo sempre lì app ci torneremo sullo strict mode app app cosa contiene app finalmente contiene il codice dell'applicazione che vogliamo scrivere noi ok chiudiamo un attimo terminale contiene in questo caso è un esempio quindi contiene un unico componente che si chiama app che contiene la logica della nostra applicazione cosa fa questo componente tralasciamo un attimo questo che è uno stato che abbiamo detto lo vedremo poi fa solo una cosa fa un return di che cosa del jsx che rappresenta la nostra pagina ok e la nostra pagina è rappresentata da un div in cui hanno messo un primo div con i loghi poi un h1 byte più react poi un bottone e un'altra scritta quindi effettivamente era quello che veniva visualizzato se voi aprite l'inspector l'inspector non contiene solo il div id root ma ogni volta si aggiorna con quello che il codice javascript in questo caso gestito da react ha creato nell'albero del DOM del browser quindi effettivamente c'è quel div che abbiamo visto prima che è tutta l'applicazione il primo sono i loghi il secondo l'h1 il terzo la parte sotto che aveva quel bottone se apriamo appunto troviamo il bottone e così via quindi abbiamo la nostra prima applicazione react funzionante pronta per essere utilizzata da noi cosa facciamo noi semplicemente andiamo a modificare quello che c'è in app jsx e scrivere il nostro codice ed è quello che facciamo tra un istante quindi andiamo a mettere qualcosa di nostro perché è bellissimo avere qualcosa di già pronto ma vogliamo provare a fare delle modifiche il nostro è il word diciamo così un po' più complicato prima di andare avanti forse qualcuno di voi ha intravisto l'uso dei moduli nel senso che noi se non teniamo tutto in un unico file avremo bisogno anche dei moduli per il nostro codice diciamo inizialmente per oggi possiamo accontentarci di avere tutto in un unico file ma avete visto nel codice che all'inizio c'è da tirar dentro qualcosa da file esterni questa operazione si fa non con i require ma con gli import gli import ci servono per creare dei moduli che sono una maniera diciamo ben strutturata di condividere del codice nell'ambiente del browser torneremo su questo aspetto più avanti sono molto intuitivi come vedrete da quello che scriveremo però il require funziona per node.js se abbiamo bisogno di moduli nel browser avremo bisogno di questi import ok noi addirittura qui non vediamo neanche il browser proveremo un po' più avanti così giusto per curiosità portare un modulo in un browser però nel momento in cui noi sviluppiamo nell'ambiente reale noi scriviamo codice solamente qui dentro in src scrivendo in app.jsx oppure creando altri file jsx perché perché quando l'applicazione diventa grossa lo sapete se avete tutto in un file non ci capite più nulla e quindi se avete però dei file esterni bisogna importarli ok ma lo vediamo la prossima volta qui trovate sulle slide due dritte su come funzionano gli import gli export ma per oggi vi guido io la prossima volta quando c'è bisogno lo introduciamo bene quindi andiamo a provare un pezzettino di codice nostro ok così concludiamo il discorso e riusciamo a mettere su un pezzettino sul quale possiamo lavorare poi nella seconda parte della mattina come vedete qui c'è function app che è quella di prima in cui abbiamo preso cancellato tutto e fatto ritornare un pezzettino di jxx molto semplice noi non vogliamo cominciare con una cosa complicata vogliamo una cosa semplice quindi return p e ci mettiamo un nostro bottoncino perché è un nostro bottoncino perché l'abbiamo creato sotto forma di componente un componente per react è una funzione e dentro lo stesso file quindi non abbiamo problemi di import come vi dicevo prima semplicemente una funzione che noi possiamo usare con il suo nome dentro un tag questa è la potenza del jsx perché nel momento in cui creiamo noi i componenti i componenti sono una visualizzazione un pezzettino di interfaccia utente e quindi li possiamo usare come tag html per metterli dove vogliamo nell'albero del virtual DOM che poi sarà diventerà DOM grazie a react ok facciamo questa modifica quindi io prendo e cancello tutto quindi cancello tutto non mi piace che come si dice lo script che crea l'applicazione di base non mette punti virgola non è che mi piace tanto quindi io quando posso li metto cancelliamo anche questo che non ci serve e avevamo sulle slide fatemi vedere di qua che facciamo prima così copia e colla funziona un po' meglio esempio slide sembra che sia questo qua quindi avevamo un p con un button ok e però avevamo anche il button quindi questo è quello che c'è scritto sulle slide non sto inventando niente sto facendo solo ah no l'ho chiuso sto facendo solo un copia e incolla non dalle slide perché poi non mi va a capo salta un pezzo e così via solo per fare un po' prima però esattamente il codice sulle slide quindi adesso ho salvato e quindi se faccio salva andiamo a vedere cosa è successo mi si è aggiornato automaticamente questo è un altro dei vantaggi di usare questo ambiente di sviluppo quindi questo byte che quando salvo automaticamente va a interpretare il codice va a caricarmelo va a visualizzarmelo quindi in qualche maniera si parla col browser gli dice che le cose sono state aggiornate quindi c'è del codice in più diciamo che tiene conto di cosa sta succedendo e che ho fatto ho guardiamo il codice ho il mio div root che c'è sempre fisso e nessuno lo toccherà mai che dove viene montata l'applicazione react e poi c'è il p che ho creato io e poi cosa c'è un button button minuscolo cioè un button html queste le tag html button io qui sotto non vedrò mai i componenti qui vedo sempre solo dei tag html veri quelli del dom vero questo è il browser non è react ok con scritto qualcosa va bene vado a vedere nel codice sostanzialmente al posto del tag button questo maiuscolo anche la maniera che react usa vedremo dopo per indicare i miei componenti rispetto ai componenti del dom i componenti del dom sono minuscoli il p lo scritto minuscolo per dire voglio quello del dom questo che è scritto maiuscolo vuol dire è un mio componente vai a cercare la funzione che si chiama button e vai a fare quello che dice la funzione la funzione sostanzialmente fa un return differente a seconda di che cosa voglio visualizzare e lo fa sulla base di una proprietà di una prop che io passo al componente come faccio a passare questa prop al componente con gli attributi html questo non è un attributo html che verrà fuori nel dom ma è un attributo html che react interpreta come una proprietà del mio componente quindi mi verrà messo a disposizione in props sottofondo i props punto il nome che ho usato qua lang devo solo fare attenzione a non andare in conflitto con quelli che esistono già quindi tipicamente non userò id class name e tutte queste cose ok però posso definirli io nella seconda ora di questa seconda ora e mezza di questa mattina chiariamo meglio queste cose questo è solo l'esempio per darci un'idea di che cosa andiamo a fare allora se props lang uguale it mi viene ritornato button ciao avevo messo it ok e mi viene fuori ciao se io cambio vedete che qui non c'è lang it non c'è scritto da nessuna parte se io cambio metto n oh vabbè un'altra cosa visto che c'è l'else salvo faccio vedere faccio anche rimpicciolire così vi faccio vedere che il browser con questo sistema si aggiorna subito quindi io salvo salvo dove è salva no ho salvato il file sbagliato salva ok è cambiato adesso lo stesso componente di prima quindi il button ricevo una prop diversa props punto lang uguale a una cosa diversa dai t e mi esegue la seconda parte non la prima ma chi lo esegue chi decide di eseguirlo fa tutto react nel momento in cui noi cambiamo delle props react decide quale parte del virtual DOM va aggiornata perché sa dove vanno le props di ogni componente quindi sa quali props riceve ogni componente se sono uguali a prima assume che il componente non sia cambiato qui che c'è risparmio di performance però bisogna che scriviamo le funzioni che dipendano solo dalle props se invece sono e cambiate le props viene chiamata la funzione del componente quindi si prende il nuovo return il nuovo return in questo caso è button hello button viene preso si vede che è diverso dal virtual DOM precedente quando react ha finito di fare l'operazione su tutti i componenti dell'applicazione andrà ad aggiornare il DOM reale del browser e quindi ci viene fuori un nuovo button con la scritta hello nel DOM reale e quindi viene visualizzato l'aggiornamento sull'interfaccia web del browser ok volevo vorvi vedere se si vede ma forse ho il plugin rotto forse l'ho disabilitato non so più no attivo si fa che non l'ho provato prima non ci ho pensato che questo plugin dovrebbe farci visualizzare le props ah no ma c'è eccolo qua non capivo più perché non funzionasse non so se si ingrandisce si no si ingrandisce solo il sopra e non il sotto mi spiace qui c'è scritto app e poi c'è scritto button ok è la struttura dei componenti react ok è per questo che ci serve il plugin di react perché il browser non sa nulla dei componenti react il browser vede solo il DOM così come aggiornato da react il DOM reale quello dei tag html questo invece vede i componenti react quindi app e button quello con la B maiuscola e purtroppo qui è piccolo non temo che non si possa non si riesce a ingrandire vediamo no ah density forse comfortable ci sarà un po' più grosso vabbè meglio di niente nel button vedo che ricevo una props che si chiama lang e ha il valore n qui lo vedo perché questo è un plugin sviluppato per interpretare cosa succede nell'albero dei componenti del virtual DOM e quando ci sono dei componenti react vado a vedere posso andare a scavare vedere le props vedere gli stati e così via ok nel browser normale tutto ciò non lo vedo vedo solo il risultato del render quindi di quello che i componenti hanno prodotto come frammenti di interfaccia utente da visualizzare ok che può essere utile lo stesso per vedere cosa è venuto fuori però non mi da un aiuto per capire se le props stanno funzionando bene all'interno della mia applicazione react ok allora abbiamo fatto funzionare questo primo esempio ok quindi ci viene creata la nostra applicazione di base cancelliamo tutto dentro il componente e ci mettiamo il nostro codice molto semplice va bene qui possiamo andare in un file separato ecco vorrei farvi vedere diciamo questo esempio lo aggiustiamo un pochettino perché poi a noi piace uno avere uno stile decente quindi avere a disposizione quello che avete avuto nello scorso laboratorio bootstrap no? lo importavate col CSS e javascript vorremmo la stessa cosa e vorremmo avere i componenti di bootstrap a disposizione ed esiste react bootstrap cioè la versione diciamo di tutti gli elementi che avete visto in bootstrap fatti sotto forma di componenti react è solo da prendere e usare con l'unica accortezza che dobbiamo prima importarli essendo esterni e poi possiamo possiamo sostanzialmente fare tutto quello che desideriamo esattamente come lo facevamo la scorsa settimana in in aula in laboratorio con con bootstrap quindi fondamentalmente quando c'è bisogno useremo le classi visto che usiamo l'approccio di react a componenti molto spesso quasi sempre vi basterà direttamente usare il componente di bootstrap fatto per quello che volete fare il bottone la tabella la lista e così via che ha già dentro il class uguale eccetera perché quello di bootstrap è chiaro che ha il suo stile ok quindi andiamo ancora a fare questa modifica poi così nell'intervallo vi faccio il commit ve la metto quindi prendiamo questo codice che di nuovo dovrei avere a disposizione che ho messo bootstrap app mi sembra esatto è questo della slide che pasticcio questo mouse non funziona chiudiamo allora copia vado nella mia app jsx cancello tutto incollo ok salvo e non funzionerà nulla no perché perché mancano un po' di pezzi adesso li mettiamo a posto ma volevo proprio farvi vedere questo poi facciamo pausa allora prima di tutto manca bootstrap no qualcuno l'ha installato no la versione base non l'ha installato se non ci andava di usare bootstrap volevamo usare qualcos'altro non volevamo usare bootstrap per esempio la versione base usa il CSS scritto da loro cosa che vi consiglio di prendere e buttare via perché perché come sapete il CSS è difficile meno lo tocchiamo meglio stiamo è utile conoscerlo l'abbiamo visto in laboratorio abbiamo fatto scritto una regoletta perché così ci ricordiamo come funziona se ne avessimo bisogno proprio possiamo provare a scrivere una regoletta però come sapete meno tocchiamo CSS meglio stiamo ma perché ma non è una mania è semplicemente perché noi vogliamo concentrarci sulla logica dell'applicazione all'esame non è che prendete il voto per il bel CSS che avete scritto prendete il voto su come avete organizzato i componenti sullo stato come la gestione degli eventi e tutte queste cose qua perché quando un'applicazione deve funzionare queste sono le cose che devono funzionare poi se non vi piace come funziona l'applicazione andate da uno che fa di mestiere quello che abbellisce le pagine web le applicazioni vi fate fare un bel CSS e avete risolto questo problema ma un altro mestiere voi qui imparate a scrivere la logica dell'applicazione a fare bene l'applicazione per questo che cerchiamo di fare il meno possibile sappiamo che esiste sappiamo come tirarlo dentro ma cerchiamo di non usarlo se possibile cioè stare sui default che sono tra l'altro belli e vanno benissimo praticamente per tutti i temi d'esame il massimo che dovete fare è un po' di layout quindi avete la griglia potete ragionare sulla griglia che è la cosa più semplice fare riga e colonna ragionare tutto in quei termini se avete bisogno di un menu di sotto e di sotto mettete una riga mettete una colonna e ragionate in quei termini fine ok? questo è il massimo che dobbiamo fare ok allora allora prima di tutto bootstrap installiamo bootstrap ok? quindi ecco ce l'ha scritto no npm install react bootstrap install bootstrap allora nel terminale come sempre ok l'ho aperto si devo essere nel mio progetto eh perché nel mio progetto che c'è il node modules il package json eccetera io questa mattina metterò due progetti uno è quello che abbiamo appena provato e un altro è quello che andiamo a fare nell'ora e mezza dopo eh dopo che abbiamo chiarito un po' di idee sul jsx eccetera proviamo a trasformare la vecchia applicazione quella lì dei cosa chiamavamo le risposte eh in componenti scritti in jsx ok allora qui dentro npm install bootstrap ok andiamo in via aspettiamo che ce lo scarichi e eh questo installa che cosa? installa bootstrap cioè installa fondamentalmente il css di bootstrap ok tra l'altro ecco per qualcuno che in laboratorio chiedeva ci sono le iconine in bootstrap eccetera ci sarà anche un pacchetto per le iconine questa volta è molto comodo perché si installa e non avete più bisogno di copiare tutto l'swg tutta quella roba che copiavate incollavate dal web ma c'è il nome dell'iconina e la introducete facilmente però questo è un dettaglio più di stile appunto install react bootstrap strap che differenza c'è tra le due cose? oppla volevo speriamo che si è piantato volevo far sparire questa cosa a destra no vabbè non so come farla sparire pazienza me l'ha messa no react no npm install react bootstrap scusate non rilanciamo al massimo ci dice c'è già per non aver fatto pasticci se vi succede un pasticcio cancellate la node modules rifate npm install e ripartite dal punto in cui eravate prima vedete se si sono impasticciati i file delle librerie ok quindi adesso ho caricato questi cioè ho scaricato bootstrap che quindi mi da a disposizione css ho scaricato react bootstrap che mi da dei componenti che sono quelli che io creavo prima a mano con i vari div class uguale col class uguale row class uguale container eccetera questi sono già fatti sotto forma di componenti quindi li posso usare in questa forma no container row col non ho più bisogno di scrivere div class name uguale col devo semplicemente usare i componenti perché ho deciso di usare react bootstrap potrei anche non usarlo io vi consiglio di usarlo perché hanno già fatto tutte le modifiche per rendere compatibili i componenti di bootstrap con react soprattutto per i componenti un po' dinamici è chiaro che col row non è che ci va tanta scienza a usarli però nel momento in cui avete il bottone che si apre la lista eccetera hanno già reso tutto compatibile ok va bene vediamo cosa è successo qui non è ancora successo nulla perché il server non gira più perché io l'ho spento npm run dev ok allora open premo o open e non funzionerà ancora ok perché perché button jsx che è un file che io volevo portarmi dentro col codice del mio bottone non c'è allora lo creo e infatti mi fa esiste il file e no non esiste lo creo allora qui dentro nuovo file dunque com'è che deve chiamare button mi raccomando fate attenzione a chiamarli tutti jsx e non js perché se li chiamate js poi non funziona se mettete dentro jsx cosa ci scriviamo dentro ci scriviamo dentro quello che avevamo sulle slide cioè questo questo codice e poi correggeremo questo sarebbe meglio chiamarlo jsx quindi prendiamo questo codice di nuovo dovrei averlo pronto button button jsx si questo mouse ma cosa allora copia lo metto dentro incolla nuovo formato così un po' più decente per ora non mi interessa cosa c'è scritto l'ho salvato ok vediamo cosa è successo per ora ancora nulla quindi non è che sempre si ricarica da solo cioè quando aggiungo il file eccetera ogni tanto c'è bisogno di fermarlo e rilanciarlo ok quindi io faccio q o ctrl c q o ctrl c e lo rilancio vediamo se questo giro funziona allora faccio open oh qualcosa è venuto fuori controllate sempre anche la console del browser la console del browser che è questa se ci sono degli errori non è detto che vengano sempre scritti lì sopra possono anche essere errori che capitano a run time nel javascript per esempio se ho un undefined di cui voglio andare a prendere un valore eccetera questi sono errori run time che ci verranno fuori qui sotto ma ci capitano dopo quindi li lasciamo per dopo ok e questo è quello che io volevo fare con questo esempio quindi l'esempio sostanzialmente ha un un app che ha un container il container bootstrap quello che noi scrivevamo div class uguale container una row una col quindi una riga una colonna quindi ha fatto il suo layout dentro ci ha messo my button il my button è stato semplicemente portato dentro da un altro file e questo function my button ci fa la stessa cosa di prima button se eit scrive ciao se no hello aggiunge un pezzettino in più che qui vediamo e poi lo riprendiamo quando parleremo degli stati cioè si ricorda se sostanzialmente si ricorda se io l'ho già premuto si ricorda qual è l'ultimo valore e me lo cambia da it a n viceversa ok adesso non lo sto a spiegare però il risultato netto è che se premo il bottoncino react nel momento in cui cambia lo stato mi fa render e mi cambia quello che viene visualizzato sullo schermo ok questo è giusto per far vedere diciamo ecco possiamo ancora aprire la visualizzazione app container row call my button button e in dove in my button c'è uno stato n it n it n ok questo qui ux poi chiariremo la prossima volta che cosa succede ok c'era una domanda poi facciamo pausa my button perché nel button jsx abbiamo scritto export default my button gli abbiamo cambiato nome nel momento in cui uno fa import può decidere di cambiare nome ok ma queste cose vedrete cioè sono sono dei dettagli appunto ho cambiato nome non mi fa non c'è e allora vado a vedere se il nome è uguale lo aggiusto fine ok io dopo non li uso più i file però volevo farvi vedere questo esempio della slide giusto perché così abbiamo diciamo provato effettivamente quello che abbiamo visto qui dovremmo aver fondamentalmente sì ah ok era dopo il button e abbiamo una lunga strada ah sì scusa c'è ancora una domanda era blu sì il mio bottone è blu e è il default di di bootstrap nel momento in cui non specifica nulla dunque c'è la eh lì come ecco come faccio visto dai abbiamo due minuti eh come faccio a cambiare il colore del bottone qualcuno sarebbe tentato di scrivere questo css io lo so perché css poi piace una volta che uno dice vabbè sono capace provo e dove è il bottone ok e devo andare a vedere come sono stati definiti i componenti di react bootstrap ok quindi il vostro amico è sempre browser react bootstrap button button andiamo a vederci la documentazione eh e la prima cosa che ci fa è un esempio di bottone di diversi colori come si cambia con l'attributo variant primary secondary eccetera eccetera ok io qui avevo messo primary quindi è venuto blu se no secondary giusto per farvi vedere ho risalvato che succede che uno lo fa grigio uno lo fa blu eh sono io che decido ma come faccio a sapere e devo cercare eh prima in bootstrap avevate solo class uguale con le classi dovevate mettere gli aspetti che volevate voi visto che abbiamo i componenti react bootstrap ci sono degli attributi quindi delle props che io posso passare a questi componenti che sono mappate abbastanza bene su quelle classi che avevate nel bootstrap tradizionale eh quindi se vi ricordate c'era già il primary secondary si chiamava però button trattino primer o cos'è che si chiamava e le consultate vedrete che una volta che sapete usare un po' i bottoni gli elementi del form una tabella e una lista diciamo che tutto il resto è abbellimento ce ne sono tanti va bene però fondamentalmente cioè con 4-5 tipologie di componenti avete risolto il vostro problema e come dicevo a qualcuno in laboratorio ma lo ridico qui in aula noi all'esame non è che valutiamo l'aspetto valutiamo come funziona l'applicazione poi è chiaro che se l'aspetto implica che non si riescano a usare delle funzionalità ha il suo impatto però insomma nel momento in cui è tutto lì si può cliccare si può interagire l'aspetto diciamo è una cosa secondaria per noi perché? perché c'è gente che è dedicata si dedica solo a ottimizzare questa parte ok dicevo prima che vi metto online questo e sì ecco che da adesso in poi abbiamo una lunga strada davanti e piano piano impareremo tutti gli aspetti di realte che ci consentono di creare la nostra applicazione cominciamo dal più semplice dal definire i componenti abbiamo fatto un piccolo bottone nell'ora e mezza successiva capiamo bene come funziona il JSX che adesso abbiamo un po' intravisto e poi creiamo i nostri componenti statici per ricreare la tabella delle risposte della volta scorsa ok va bene se non ci sono altre domande facciamo pausa e dopo continuiamo in questa direzione grazie 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 grazie